Io volevo soltanto dire una cosa, oggi pomeriggio in macchina mi ha detto che la nostra provincia è bellissima, ha già molto e forse il desiderio di andare oltre a volte può servirci ma possiamo anche farne a me. E invece è vero, abbiamo già molto, dobbiamo essere contenti e soddisfatti di questo, però un passo in più dobbiamo farlo, dobbiamo avere qualcosa in più, dobbiamo avere forse quell'ambizione che a volte viene vista come una qualità negativa, invece io la vedo molto positiva, dobbiamo essere per l'appunto ambiziosi, dobbiamo guardare le stelle, le stelle possono stare in cielo ma a volte anche a fianco a noi, a San Vodito, ecco Peppe Servino. Grazie. Grazie a te, insomma avere un assessore alla cultura di 18-19 anni è una cosa difficile in questo paese, che non è un paese per giovani a proposito di qualche titolo famoso. Io vi ringrazio moltissimo da Casertano, per me cantare nella mia provincia, nella mia terra è sempre particolarmente emozionante, perché quando lo si fa davanti, come quando lo si fa davanti ai propri cari, come è capitato anche stasera, c'è un'emozione in più, però uno alla fine la trascura perché sa di essere amato per quello che è. Grazie.